Sono Luigi Antonio Giaretti, come si chiama l'altro? Devo rifarla, come cazzo si dice? Che paura! Ciao raga, questa volta sulla sette, sono Luigi Antonio Giaretti Molti di voi mi conosceranno come Luigi Giaretti e basta Ho 30 anni e sono il creative director e founder di Lagward, il mio brand Sui social e sulla piattaforma di TikTok parlo di moda Ma con una vena ironica che è quella che mi contraddistingue sicuramente Il primo video che ho caricato sulla piattaforma di TikTok risale al 2020 L'anno della pandemia, quindi tutti ce lo ricordiamo Chiedevo proprio al pubblico, ma come si usa TikTok? Perché non ho la più pallida idea, cioè, della serie Qua cosa devo raccontare? Dato che ho tanto di quel tempo libero che potrei veramente scalare l'Everest Mi sono detto, vabbè, scarichiamo TikTok Ma che cazzo è TikTok? Poi da lì ho iniziato a capire che in realtà la gente voleva semplicemente sapere un po' di me, della mia vita E condividere con me le mie stesse ansie, le mie stesse paure, le stesse angosce Che soprattutto in quel periodo un po' ci attanagliavano, diciamo Ho pubblicato dei contenuti che erano frutto della mia spontaneità In un secondo momento questa spontaneità ho detto Cavolo, non è che non mi bastasse, però volevo in qualche modo che la mia community, il mio pubblico Sapesse realmente chi è Luigi, quello che fa Luigi E quindi ho iniziato a parlare anche di quello che faccio nella vita Io lavoro nella moda da dieci anni Ho militato in diversi showroom Per poi aprirne finalmente uno mio E soprattutto ho un brand di moda che si chiama Lagward Che ho lanciato nel 2021 Grazie anche sicuramente alla mia presenza sui social Sulla piattaforma di TikTok Che mi ha dato una spinta in più Per poter, diciamo, avviare questo progetto Come nasce l'idea di lanciare Lagward? L'idea nasce da prima di approdare sui social e sulla piattaforma di TikTok Anche se sicuramente entrambe mi hanno molto aiutato Nel lanciare il brand e soprattutto nel visualizzare un po' chi era il mio pubblico Perché io mi sono ritrovato su TikTok con una community gigantesca Che era composta in parte da una Gen Z che era molto giovane e a me sconosciuta In parte dai millennials che è la mia generazione E poi i boomer che sono le persone un po' più grandi E io volevo creare un qualcosa che fosse un ponte tra queste generazioni E in qualche modo che potesse metterle in comunicazione tra di loro Perché credo fermamente che al di là dell'età c'è sempre da imparare da entrambi i lati Non voglio proporre qualcosa solo a un pubblico ma a tutti Cioè chiunque si può sentire se stesso indossando qualcosa che io ho creato E insomma inclusività che è una cosa che molto spesso ne sentiamo parlare Ma poi nella realtà è difficile comprendere che cos'è davvero inclusivo A volte ci si perde un po' È molto semplice, è inclusivo quello che non ti fa sentire diverso da nessuno E anzi uguale a tutti All'inizio per il progetto che avevo in mente è stato difficile Soprattutto perché io all'inizio ho iniziato a portare dei contenuti sulla piattaforma di TikTok Riguardanti la mia quotidianità E quindi ero molto spontaneo e non parlavo di quello che era Luigi nell'ambito lavorativo Ero quasi diventato un personaggio comico Poi in un secondo momento ho detto Però io sono questo ma sono anche tanto altro E quindi ho voluto iniziare a parlare alla mia community Di chi sono io e di quello che faccio poi nella vita reale Quindi queste persone che mi vedevano un po' come una figura comica All'inizio erano molto diffidenti nel vedere me lanciare un brand Pensavano sicuramente sarà il solito brand che lancia una persona Che ha un po' di popolarità sui social o su una piattaforma come TikTok E invece poi si sono ricreduti perché hanno letteralmente visto il processo creativo con me E la creazione proprio del brand e tutto quello che ho raggiunto Le mie creazioni nascono dalla mia vita, quotidianità direi Ho avuto la fortuna fin da piccolo di viaggiare molto E per me viaggiare è un po' letteralmente un sentirmi meglio E proprio assorbire quello che ho intorno E nell'assorbire per me è una parte iniziale fondamentale del mio processo creativo Che mi porta poi a creare un gioiello o qualcos'altro Dato che ci sono un sacco di cose che vedrete in futuro Che poi metto nelle mie collezioni È molto importante per me osservare Ho sempre gli occhi di una persona stupita Cioè che osserva, curiosa Penso che sia fondamentale Ci sono dei mondi a cui mi ispiro Sono un po' un cardine della mia visione creativa Sono appunto il punk, fine anni 90, inizio 2000 Quello che ha un po' tutta la Street Fighter, Tekken Tutte quelle cose un po' dei manga Sono dei mondi che mi piacciono Che mi hanno sempre, che ho sempre trovato interessanti E da cui ho sempre estratto letteralmente qualcosa per poi trasformarlo Devo dire che l'Hugward in neanche un anno e mezzo Ha avuto la fortuna di vestire un sacco di celebrities, influencer, artisti Basti citare Kylie Jenner, Ashley Graham, Julia Fox e altri Se dovesse ambire a qualcuno in particolare In questo momento direi Rosalia o Miley Cyrus E per i ragazzi invece Manu Rios, probabilmente Non avrei mai pensato di creare qualcosa che migliaia di persone ad oggi indossano E che non solo indossano ma che sono orgogliosi di indossare Cioè sono felici perché in qualche modo si rivedono in quello Quindi questo per me è stato veramente bello Mi ritengo una persona molto fortunata Una delle mie più grandi faure è quella di fallire Dal punto di vista umano, come persona Spero sempre di essere una persona molto coerente Col mio percorso, con chi sono, con i miei valori Che mi ha dato la mia famiglia Quindi spero di rimanere così Ora e per sempre Spero tra dieci anni forse di non vivere magari a Milano Ma vivere a Los Angeles Che è uno dei miei posti Cioè lo sento proprio mio Quando vado in quel posto lì Mi rivedo bene, sto bene Spero che il mio progetto possa crescere E possa continuare ad evolversi Proprio come lo faccio io ogni giorno come persona Però mi reputo talmente fortunato Che credo che tanti miei sogni siano già realtà Quindi vivere in questa realtà che ho oggi È per me il mio più grande sogno Una cosa di me che poche persone conoscono È che non mangio carne da cinque anni e mezzo Se qualcuno vuole join the club Sono qui volentieri Ragazzi vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato Spero di non avervi annoiato troppo E uno saluto speciale a tutta la sette Mentana presto in Lagward Un bacio, ciao Io la intro comunque la odio Posso dirlo? C'è proprio qualcosa nei confronti della intro C'è proprio la mia C'è proprio la mia